Dove sparite? Facciamo un gioco. Dai, ditemi cosa vi viene in mente. Ce l'ho! Il latte di Antonio! Riscopri il piacere di stare insieme con la cremeria. Solo latte fresco italiano, primo ingrediente, senza aromi e coloranti, per un gusto autentico che nasce da materie prime selezionate. E qui? C'è Gigi! Gigi? Sì, mangiavamo sempre il gelato da lui. La cremeria, fatta come piace a te.